L'idea di questo convegno nasce dalla collaborazione di uno studio legale di Pavia Anzalda e di una società di consulenza della quale faccio parte, Arthur De Littal. Affronteremo tematica della nuova normativa della privacy GDPR e il suo impatto sul processo di customer relationship management. Ovviamente affronteremo questo tema sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista di business, cercando di dare spunti di riflessione utili per le aziende e alcuni risvolti pratici.